... Questa nuova vettura Fiat, la 1200, non è soltanto un'automobile della tecnica modernissima è anche molto elegante. Eleganza è armonia. Dà prestigio all'automobile e alla persona. Una persona elegante, una vettura elegantissima. Diciamo pure Formula 1200. ... linea misure concorrono alla bellezza della 1200 e alle comodità del suo uso ci si sta con piacere la sua guida è facile e sicura la sua eleganza è perfettamente sincronizzata così come ogni sua marcia la prima la seconda la terza la quarta e in caso di necessità la marcia indietro veloce agile veramente gran luce ma che macchina è questa che sopraggiunge e la supera è una 1200 anch'essa è lo spider 1200 le due versioni berlina e spider decapotabile fanno della 1200 un'eleganza unica un modello che piace e convince un successo sicuro buon viaggio